Ciao a tutti, sono Matteo Fomagalli, ho un canale YouTube del quale mi occupo principalmente di libri e sono qui a Pisa in occasione dell'Internet Festival. Se anche voi amate leggere e volete appassionare qualcuno alla lettura, qui alle loggie c'è un booktube, un angolo booktuber, dove anche voi potete parlare di libri online. La cosa più bella del parlare di libri online è quella di appassionare altri lettori alle letture che amiamo, ma anche di far conoscere la lettura a chi di solito non legge o legge poco spesso. Quindi se avete dei libri che amate molto, che sono poco conosciuti o poco apprezzati da vostri conoscenti amici, potete diventare booktuber per 30 secondi in questi giorni di Internet Festival. Provateci, in caso vi divertirete. Un bacione. Grazie. Grazie. Grazie.